oggi 21 febbraio 2021 giornata incantevole e il tramonto ancora di più il sole sta entrando nel vulcano e ci regala la sua magia pulsa incredibilmente come un cuore che batte nella gabbia toracica di noi esseri umani non sto toccando zoom non tocco nulla ma il sole si muove è incredibile ciao padre sole grazie per questa meraviglia incantevole è un momento magico il sole sembra entrare nella bocca del vulcano ma quante meraviglie crea il signore è un quadro che ha dipinto dio il sole tramonta scendendo nel vulcano e dipingendo il cielo di un rosso meravigliosa non c'è pittore più grande del signore che incanto ecco proprio perfetto nel centro del catena del vulcano guarda vero e spettacolare grazie 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 per tanto splendore è un momento magico questo ciao padre sole ciao adonai a domani lasci spazio ora al nostra sorella luna e alle stelle e al firmamento che con la notte possiamo ammirare canale Grazie a tutti.